Musica Ciao a tutti ragazzi and welcome to my channel Nel video di oggi vi mostrerò come ottenere il make up di Maleficent Spero tanto che il video vi piaccia, cominciamo subito con il trucco Comincio subito mettendo le lenti a contatto Le metto all'inizio per il semplice fatto che gli occhi un pochino lacrimano Quando andiamo a metterle e non vorrei rovinare poi il trucco alla fine Però se non riuscite a sopportarle potete anche metterle alla fine Poi utilizzo un primer in spray, molto semplicemente E passiamo al fondotinta Il fondotinta all'inizio è un attimino chiaro per me Però dopo si confonderà bene comunque con la mia pelle Per applicarlo utilizzo una beauty blender ma potete utilizzare il metodo che più preferite C'è chi comunque preferisce utilizzare il pennello Io mi trovo molto bene invece con la spugnetta Ho deciso di farvi da voice over in questo video per il semplice fatto che mi sembrava Lungo dove parlare nel video e truccarmi E l'effetto così è anche molto più soddisfacente, il video è più corto Subito dopo il fondotinta applico la cipria che è waterproof ed è veramente molto valida Quindi utilizzo questa cipria qui E poi vado a fare le sopracciglia Le avevo già fatte però vado comunque a ripassarle molto velocemente Molto definite, niente di troppo naturale Comunque questo passaggio è veramente a vostro piacimento Per quanto riguarda gli occhi e iniziamo con il vero e proprio trucco Vado ad applicare una base per ombretto Questa è la Shadow Base di Makeup Revolution nella colorazione Halo È veramente molto bianca però farà comunque aderire il nostro ombretto veramente molto bene Lo farà durare più a lungo Lo sfumo ovviamente come avete visto nel video solo con le dita Con un pennellino piccolo poi è un colore nero Un ombretto di colore nero, sì, so parlare fantasticamente Sfumo quindi nella parte esterna il colore nero e nella piega dell'occhio Non vado a toccare comunque l'interno e la palpebra mobile, ecco Per quanto riguarda questo passaggio continuo a sfumare semplicemente Quando vedo che non c'è troppo nero, che il nero è sfumato E comunque quando vedo che ho un risultato che mi soddisfa Questo pennello non è esattamente adatto per quello che io sto facendo Ma tutti gli altri erano sporchi quindi dovrò adattarmi un po' E utilizzare questo Facciamo la stessa cosa poi sull'altro occhio Ovviamente qui ho rilasciato un po' più di colore Ma non preoccupiamoci perché tanto comunque andrà tutto via Verrà più o meno sfumato uguale all'altro E la differenza quindi sarà minima Se vi succede questo come a me, di mettere un po' più di colore su un occhio E meno sull'altro, basta che sfumate di più l'occhio in questione Sul quale ne avete messo comunque di più, più prodotto, ecco Passo anche il colore sotto l'occhio Quindi per aprire anche un po' lo sguardo e intensificarlo E per quanto riguarda la palpebra utilizzo con il dito perché rilascio più colore Scaldo il colore e ne rilascio di più automaticamente Questo shimmer che è praticamente bianco comunque Vado ad aggiungere un po' di eyeliner Procedo con l'eyeliner e creo questa linea abbastanza lunga comunque Verso l'alto Questa è una cosa importante per ricreare un po' lo sguardo di Maleficent Applico le ciglia finte Non metterò il mascara prima delle ciglia finte Perché avevo le extension alle ciglia Ma stanno andando via praticamente tutte quindi per rovinarle il meno possibile Applico solo le ciglia finte E continuo facendo contouring Allora parto con la terra Una semplicissima terra che è la Hula di Benefit tra l'altro E con il suo pennellino incorporato Che questo pennellino è veramente perfetto per scolpire gli zigomi Comincio a scolpire il mio zigomo E poi procedo applicando del nero Quindi un semplice ombretto nero Sfumo i due colori Il colore della terra e il nero insieme E cerco di creare la forma di zigomo a triangolo Più o meno che ha Maleficent Comunque avete capito Per appunto far sì che sia ancora più spigolosa questa forma Procedo facendo delle linee in verticale Congiungendo poi vabbè le due linee Quindi quella degli zigomi e quella sulle tempie Procedo anche facendo il contouring al naso Thomas Anche perché comunque sappiamo Che Maleficent ha un viso veramente molto spigoloso Se volete potete anche fare un po' di contouring Anche sulla fronte E anche sotto al mento Poi abbiamo la parte del rossetto Applico questo rossetto liquido rosso di Sephora È veramente molto bello Si asciuga subito Ha una durata pazzesca E secondo me è il colore giusto comunque per questo make up Poi con un pennellino piccolo da sfumatura Cerco di aggiustare un po' E di allungare comunque Quello che è il contouring di Maleficent A questo punto metterò il cappello tipico di Maleficent E poi in realtà siccome mi sta molto grande Lo pinzo con una molletta dietro E questo è il risultato Spero che il video vi sia piaciuto Se sì iscrivetevi al canale Noi ci rivediamo in un prossimo video